Non confondere mai lo svolgimento di un'attività con il suo completamento. Il successo è la serenità di sapere di aver fatto il massimo. I giovani hanno bisogno di buoni esempi, non di critiche. Non sarai un fallito fino a quando non inizierai ad incolpare gli altri dei tuoi errori. Lo strumento di leadership più potente che possiedi è il tuo buon esempio.